Martedì 19 giugno in primo piano nel TGL News parliamo della questione nuovo ospedale visto che il dibattito sulla scelta dell'area su cui poi verrà costruita la nuova struttura ospedaliera prosegue senza esclusione di colpi. Ieri il sindaco Patrizia Barbieri ha ribadito ancora una volta la volontà di costruire il nuovo ospedale stiamo lavorando con la regione per trovare l'area migliore ha affermato tuttavia dal mondo politico piacentino si leva un coro di no all'ipotesi dell'ex partite quale area su cui costruire stesso discorso per quanto riguarda caserma Lusignani. Lusignani la diatriba è dunque destinata a proseguire nonostante gli inviti dal presidente della regione Bonaccini prima e del numero uno di Confindustria Rota poi a trovare una soluzione al più presto. Apriamo il capitolo sicurezza da alcuni giorni infatti è stata implementata la presenza delle pattuglie appiedate dalla polizia municipale nel centro storico cittadino un'attività resa possibile grazie all'arrivo di 15 nuovi agenti entrati in servizio da pochi mesi. La volontà come sottolineato dall'assessore Luca Zandonella è quella di partecipare anche al bando regionale per la polizia locale per poter in questo modo avere pattuglie anche in bicicletta. Sempre a proposito di sicurezza il giorno del disinnesco del grosso ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale rinvenuto nei giorni scorsi a Ponte Lenzino nel territorio di Marsaglia è scattato oggi. Sono i militari del secondo reggimento Genio Pontieri a far brillare la bomba nel greto del Trebbia un'azione che richiede la chiusura al traffico delle strade comprese in un vasto territorio fra Marsaglia, Cerignale e Brallo oltre naturalmente all'evacuazione dei residenti nella zona circa una settantina. Chiudiamo con lo sport dopo l'annuncio del potron Alberto Burzoni di non voler procedere con l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C inizia la diaspora dei calciatori che nello scorso campionato hanno indossato la casacca del Pro Piacenza. Tra questi anche il piacentino Gianluca Barba per il centrocampista ex Atalanta e Piacenza si profila un'avventura in Quelle di Monza. Con i Brianzoli il 23enne di Rove Leto dovrebbe sottoscrivere a breve un accordo su base biennale. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento è alle 13 e 15 con il TGL ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito www.liberta.it